Buonasera, sono Emiliano Franceschi e questo è il mio video di partecipazione al primo concorso internazionale online Friends of Music. Vi presento due brani, il primo è Sanjep abricone scritto da Roland Yann, il 1995, il compiato Roland Yann, e il secondo è The Shadow of a Smile, è diventato nel corso del tempo uno degli standard jazz interpretati da tanti musicisti di varie estrazioni, che ve lo faccio ascoltare con il mio arrangiamento e in qualizzazione sullo strumento. Grazie e buona scuola. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.